Eccoci pronti per una nuova tappa di Un Paese in Comune, questo viaggio che stiamo facendo insieme a voi per scoprire anche le bellezze oltre che le criticità talvolta che ci propongono i comuni piccoli e grandi del nostro territorio. Questo viaggio ci mantiene ancora nel Vicentino, oggi siamo in particolare a Molvena e ad accoglierci come sempre in questo viaggio, è il primo cittadino, Dino Giorgio Crestani. Signor Sindaco, intanto grazie per averci aperto le porte della Casa dei Cittadini perché il municipio è un po' questo e anche lei è ad un anno di distanza rispetto alla sua elezione quindi mi verrebbe da chiederle di fare un piccolo bilancio di quello che è stato fatto in quest'anno, è contento di questa esperienza? Sì, buongiorno a tutti, è un'esperienza che completa un po' un percorso di vita praticamente iniziata circa 11 anni fa dove ho fatto per 10 anni il Vice Sindaco e poi va bene, diciamo si completa un curriculum e quindi eccomi qua come Sindaco. Quindi è una realtà, è un'esperienza molto positiva anche se molto difficile e che si capisce bene soltanto quando si fa il Sindaco e non il Vice Sindaco perché le responsabilità sono molte e ogni giorno c'è una problematica nuova da affrontare. Fare il Sindaco oggi non è più come fare il Sindaco, non dico decenni fa ma neanche pochi anni fa, le cose stanno cambiando, sono cambiate molto e diventa difficile diventare il buon padre di famiglia. No, il buon padre di famiglia diciamo si riesce a farlo ancora e anzi è dovuto farlo, non si deve farlo, però praticamente le risorse stanno diminuendo di anno in anno e quindi diventa molto più difficile accontentare o riuscire a realizzare certe opere che magari il territorio, il comune ha bisogno. Ecco anche perché spesso i cittadini magari sentono che la regione ha finanziato, ha dato i contributi eccetera, ma magari non tutti sanno che questi contributi arrivano dopo che il comune ha già sborsato questi soldi. Sì è una grande verità. Praticamente... E col patto di stabilità non è facilissimo. Il patto di stabilità è un po' difficile da comprendere. Praticamente sì, si ricevono dei contributi, però a volte sono finanziati al 75% e poi praticamente hanno delle particolarità in cui il comune deve anticipare, deve avere le sue risorse per poter andare avanti con i lavori, poi dopo alla fine dei lavori, dopo due anni forse, arriva l'imborso dalla regione. Quindi molti progetti devono essere preparati e programmati con le risorse che si hanno. Quindi grandissima attenzione al bilancio perché se il bilancio non lo consente non si può partire neanche con i lavori. A volte si devono rinunciare a certi contributi perché praticamente l'importo è elevato ma non si hanno le risorse proprie per poter affrontare quel 25 e poter affrontare quei due anni in cui bisogna pagare e non si riceve. Certo, certo. Ed è un peccato perché spesso i comuni magari le risorse le avrebbero ma non le possono investire perché sono bloccate. Sì, anche perché un comune come Molvena che ha 2600 abitanti praticamente ha un importo bloccato del patto di stabilità che si aggira intorno ai 400 mila euro. Quindi praticamente è un bel importo. Eh sì, con 400 mila euro si riuscirebbero a fare tante cose. Si riuscirebbero a fare qualcosina, diciamo di sì. Proprio vista anche questa difficoltà operativa e visto anche il territorio che devo dire ha grandi affinità e similitudini con quelle dei comuni con termini, lo sforzo che si sta facendo è quello di andare verso la condivisione dei servizi, dei progetti, oltretutto per i comuni sotto i 3000 abitanti, quella delle funzioni associate è un obbligo di legge. È questa la strada che state seguendo anche voi? Diciamo che gli ultimi sei mesi del 2014 prioritariamente noi abbiamo cercato di poter mettere in moto, iniziare quei processi praticamente di funzioni associate e diciamo che francamente siamo riusciti a portare a buon punto, perché praticamente a timeline è una parola grande, alcune funzioni associate, quelle della scuola, quelle della raccolta della differenziata dei rifiuti, poi abbiamo iniziato, recentemente abbiamo ripristinato la protezione civile, poi abbiamo il CUC, il centro di committenza, praticamente con i comuni limitrofi, praticamente abbiamo iniziato un processo su diverse funzioni associate, anche se il percorso si concluderà forse quest'anno su alcune, non tutte però, su tutte credo che sarà molto difficile e qualcuna probabilmente sarà nel momento in cui riusciremo a far partire anche bene l'unione montana. Infatti, perché il progetto forse più impegnativo da questo punto di vista è proprio questa unione che vede Molvene insieme ad altri due comuni, li ricordiamo perché alla fine il percorso è fatto insieme, quindi un territorio veramente omogeneo, lo statuto per questa unione è stato fatto, è già stato definito, manca l'elezione del Presidente dopodiché si parte? Sì, il 15 di giugno, sì di questo mese, sarà eletto il Presidente e pertanto partirà concretamente l'Unione, praticamente il statuto è stato approvato la settimana scorsa, quindi il percorso sta partendo. Quali sono le strade su cui pensate di lavorare prioritariamente? Quali sono i percorsi che vedranno questa Unione muovere i suoi primi passi concretamente? Beh, diciamo che abbiamo già delle convenzioni già in atto da molti anni con malostica e pianezze per quanto riguarda il sociale e quindi probabilmente sarà prioritario andare avanti e completare questa funzione nell'ambito dell'Unione. Quindi avete fatto un bel allenamento fino adesso? Sì, diciamo che c'è già un buon rapporto di lavoro, quindi praticamente è abbastanza semplice perché ci parliamo quasi quotidianamente, specialmente noi quattro comuni. Quindi il sociale come linea programmatica prioritaria? Sociale sicuramente, poi si parlava della protezione civile, poi si parlava... Quindi attenzione al territorio, al di senso idrogeologico. Al servizio dell'informatica perché chiaramente riteniamo che l'informatica deve essere unita, deve essere condivisa da tutti i quattro comuni perché praticamente riteniamo che prima di tutto deve esserci un sistema che si parla assieme, che riusciamo a parlare nello stesso modo. Quindi una rete condivisa e con lo stesso linguaggio appunto. Con lo stesso linguaggio, esatto, perché è il primo passaggio. E poi andremo avanti con discussioni sul sociale, pulizia municipale, catastrofe, cioè tutte cose che abbiamo in cantiere però come ho detto diverse volte anche ai colleghi sindaci, sono passaggi un po' che necessitano un po' di tempo. Meglio fare le cose magari con un po' più di calma, senza fretta per arrivare poi ai risultati più efficaci evidentemente. Devo dire che chi magari tira un po' più indietro su queste cose sono i cittadini, perché le unioni fan sempre pensare che magari i servizi si perdono invece che vederli ottimizzati. Nei confronti dei vostri cittadini come state lavorando per fare in modo che invece ci sia una cultura condivisa, un ragionamento condiviso? Beh abbiamo due sistemi praticamente a parte il nostro sito in comune che praticamente è aggiornato e continuamente continua a essere aggiornato, poi abbiamo semestralmente usciamo con un giornalino che si chiama Molvene in Forma e poi praticamente all'inizio del nostro mandato avevamo promesso alla cittadinanza che ogni sei mesi ci saremmo rapportati direttamente con loro. Avete fatto? L'abbiamo fatto in gennaio, adesso lo faremo a settembre e praticamente credo che sia la cosa più bella che potevamo fare, perché alla fine siamo là belli tranquilli, parliamo con la nostra gente e siamo là pronti a ricevere le critiche. E soprattutto la gente parla con voi. Sì esatto, parla tutti i giorni con noi per questo, ma voglio dire, è un momento ufficiale in cui tutti quanti hanno un momento in cui possono partecipare e essere protagonisti. Poi anche scambiarsi opinioni tra cittadini, quindi condividere un pensiero in forma allargata penso sia importante. Importante e soprattutto anche per gli amministratori perché praticamente ognuno rapporta sulla sua referenza e quindi è un rapporto diretto suo verso la cittadinanza e quindi è un momento anche di condivisione, di soddisfazione, voglio dire, ci è riuscito a portare a compimento un progetto. Indubbiamente. E quindi è un po' questo, cioè noi vogliamo essere così, cioè trasparenti perché praticamente alla fine siamo qua del paese e quindi non avrebbe senso. Siamo una lista civica e pertanto siamo aperti a tutti e non abbiamo particolari filosofie politiche, siamo solo a disposizione della gente. E questa disponibilità avrebbe anche un altro progetto in cantiere che è quello dell'Unione del Colceresa? Beh, il Colceresa è un progetto molto antico, possiamo dire antico del 1980, praticamente è un vecchio progetto che coinvolgeva Pianezze, Mazon e Molvena e sta tornando in modo prepotente alla ribalta nuovamente perché siamo convinti che non va contro l'Unione perché è un'altra cosa, però secondo noi il futuro probabilmente non è tanto l'Unione ma è una fusione di comuni. La fusione quindi, la fusione. Perché praticamente è espresso che siamo anche pronti dal punto di vista come Molvena, Mazon, sono già comuni che lo recepiscono in modo molto approfondito. È un bel passaggio direi, è un passaggio di sostanza questo, verso la fusione perché vuol dire diventare un'unica cosa sostanzialmente, non sommare ma proprio ottimizzare i servizi. Sì, per esempio Mazon e Molvena ha molti servizi, la scuola, la scuola media, ha molte cose in comune e questo è un progetto che continua dal 1980, quando praticamente Pianezze rifiutò dell'entrata e Mazon e Molvena votò a favore. È continuato questo tipo di rapporto e sta continuando in modo ottimale. Sì, quindi la fusione diventa proprio la naturale conclusione di un percorso. Potrebbe essere una naturale, però diciamo che avrebbe un po' più senso se ci fosse anche Pianezze, perché a noi interessa anche Pianezze. Ma sempre col discorso di prima, piccoli passi, ragionando e condividendo, probabilmente ci si arriverà. Io che non sono del territorio arrivo da fuori, ho notato tra l'altro la bellezza di questo territorio, quindi la domanda che mi viene da fare in chiusura di questa chiacchierata è perché i Veneti farebbero bene anche a visitare questo territorio? Perché i Vicentini magari lo conoscono, ma chi arriva dal Polesine, dal Veneziano, dal Padovano, magari non sa che ci sono queste colline meravigliose che offrono anche dei prodotti meravigliosi e dei panorami che meritano una gita fuori porta, quantomeno? Beh, Molvena praticamente è in un contesto delle prealpi venete, diciamo che sicuramente è un paesaggio magnifico e che sta emergendo, ma lo è già da diversi anni, per i suoi prodotti particolari. Fa parte di quel circuito della ciliegia IGP che praticamente è un frutto particolare, ma sta crescendo anche le viti, gli olivi, è magnifico, cioè è un territorio che praticamente è predisposto alle passeggiate a cavallo, perché praticamente ci sono molti sentieri che sono stati aperti dai Cavalieri delle Coline, che è un gruppo di Molvena che si dedica a questo tipo di attività, e praticamente ieri i nostri Cavalieri, l'altro giorno sono partiti da Molvena, sono andati e arrivati a Malostica per la cena di Merlimocai, quindi vuol dire c'è una tradizione dei Cavalieri. Quindi il territorio che si apre purtroppo siamo in chiusura della nostra chiacchierata, però ci ha fatto capire che vale la pena. Non occorre andare troppo lontano, le bellezze le troviamo veramente dietro la parte di casa, possiamo dire così. Quindi intanto la ringraziamo per averci aperto le porte della casa allargata di Molvena, per averci fatto conoscere questo territorio. Quindi grazie, grazie davvero al sindaco di Molvena, Dino Giorgio Crestani, per l'ospitalità, speriamo di avere altre occasioni per incontrarle, per incontrare soprattutto il territorio. Con voi invece ci rivediamo presto per un'altra tappa di Un Paese in Comune. Grazie.